A poco più di una settimana dalle elezioni è andato in scena sul palco del Teatro del Giglio e sugli schermi di Noi TV il confronto tra candidati a sindaco per il Comune di Lucca. Coordinati dal direttore Giulio Del Fiorentino si sono confrontati su vari temi tutti e sette i pretendenti alla poltrona di Palazzo Orsetti, Fabio Barsanti, Elgio Cecchini, Aldo Gottardo, Mario Pardini, Francesco Raspini, Alberto Veronesi ed Andrea Colombini. I candidati hanno espresso le proprie intenzioni su vari argomenti, tra i quali quello della sicurezza e della movida in centro storico, l'utilizzo dei grandi contenitori della città, le periferie, i progetti del PNRR, la cultura. Particolare spazio è stato riservato alle domande riguardanti la sicurezza stradale e la mobilità formulate dal direttore di AC Lucca, Luca San Giorgio. Non sono mancati botte in risposta tra i sette candidati, grazie alle repliche di 30 secondi di tempo concesse al termine di ogni turno di domanda. Il confronto, proseguito per circa due ore, si è concluso con l'appello al voto dei candidati ed è cliccabile sul sito internet e sul canale YouTube di Noi TV.